12 anni di reclusione per le accuse di strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo di armi e la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Macerata nei confronti di Luca Traini, autore della sparatoria contro migranti del 3 febbraio scorso. Tentato, omicidio e lesioni gravi sono le accuse per le quali agenti del commissariato di Fano hanno arrestato due giovani poco più che ventenni di origine sudamericana sospettati di aver aggredito e accoltellato al volto un trentenne. Gli ospedali riuniti hanno ottenuto un premio speciale per l'organizzazione e l'attività chirurgica. Nei prossimi mesi al sesto piano del nosocomio di Torrette sarà attivata la Day Surgery per una chirurgia ciclo breve che permetterà di aumentare il numero degli interventi da 24.000 a 32.000. Marche in 134.000 vivono con meno di 651 euro al mese povertà e disagio coinvolgono l'8,8% dei nuclei marchigiani il leggero calo rispetto all'8,9 del 2016 in attesa del reddito di cittadinanza all'indagine del Centro Studi CNA. A Falconara la street art diventa strumento per la riqualificazione urbana sarà il falconarese Giacomo Bufarini in arte run a realizzare un murale salto 24 metri e largo 6 dal titolo oltremare nella parete del palazzo di Via Vizio 22. Buonasera da Etg Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come di consueto in contemporanea su Radio Center Music e su ETV. In apertura, come avete letto ed ascoltato dai nostri titoli è arrivata la sentenza per Luca Traini sentenza ovviamente di primo grado e sono 12 anni di reclusione con le accuse di strage aggravata dall'odio razziale e porto abusivo di arma. La ricostruzione di questa giornata nel servizio di Roberto Properzi. Luca Traini è stato condannato a 12 anni per strage la sentenza della Corte d'Assise di Macerata emessa dopo due ore e mezza di consiglio. Nel pomeriggio di oggi con il procuratore Giovanni Giorgio soddisfatto per essersi visto accettare tutte le sue richieste con l'ipotesi di strage in primis. L'entità della pena ci sta. Diciamo che quello che non mi soddisfa ma è un giudizio molto superficiale è che io ritenevo a buon diritto che non fosse possibile contestare la strage. discussione molto accademica perché come dicevo una forbice di tale così elevata da 7 al 24 consente anche paradossalmente che se ce l'avessi avuto ragione io la pena poteva essere stessa uguale quindi cambiava poco alla fine dei discorsi. A sorpresa la discussione era iniziata stamattina con una dichiarazione spontanea del 29enne leggendo 6 foglietti scritti a mano si era detto pentito per quanto fatto e aveva chiesto scusa. Poi l'accusa aveva chiesto la condanna a 12 anni per strage appunto con odio razziale. Gli anni effettivi erano 22 15 per strage 3 per aggravante razziale 2 per porto abusivo di armi 1 per danneggiamento 6 mesi per esplosioni pericolose e 6 mesi per porto di munizioni le attenuanti e il rito abbreviato hanno portato il calcolo a 12 soddisfatti tutti i legali mentre alcune tra le vittime chiedevano di più. Il difensore dell'imputato non sarà così soddisfatto perché nessuna delle contestazioni che lui aveva mosso relativamente ai fatti di questo procedimento penale sono state accolte quindi secondo me la corte d'assise si è espressa in modo veramente corretto e coerente con gli accadimenti processuali. Credo che sia da qui si possa ripartire intanto per come dire è una dimostrazione che l'ordinamento che lo Stato quando vuole fare il suo mestiere lo sa fare lo sa fare bene lo sa fare in maniera motivata in tempi ragionevoli e quindi che non esiste una soluzione traini ai problemi dell'immigrazione esiste un esercizio della giurisdizione da parte dello Stato quindi una sentenza che va nella direzione non spiegata con le persone sei persone quindi più o meno anche venti anni di prigione così sarebbe meglio di dodici anni è troppo poco ora Traini ricorrerà in appello Certamente lo faremo in maniera serena cercando di verificare una volta letta la sentenza se ci sono dei motivi che rendono appellabile la sentenza Lui che ha detto? Lui sta molto sereno era una cosa per la quale eravamo preparati Ancora cronaca tentato omicidio e lesioni gravi sono le accuse per le quali agenti del commissariato di Fano hanno arrestato due giovani poco più che ventenni di origine sudamericana sospettati di aver aggredito e accoltellato al volto in via Arco da Augusto a Fano un trentenne anche lui di origine sudamericana e residente in città aggredito ha subito delle profonde ferite d'arma da taglio sulla testa e su un arto la polizia indaga sul movente dell'aggressione che potrebbe essere di tipo passionale non si esclude che però sia legato al passato del ferito noto alle forze dell'ordine ad Ancona distruggono i finestrini dell'auto a colpi di mazza a Ponte Rosso presi due uomini operazione dei carabinieri del comando della compagnia di Ancona iniziata poco dopo la mezzanotte dopo la chiamata al 112 giunti sul posto i militari si sono trovati di fronte all'utilitaria con tutti i vetri completamente frantumati e diversi graffi e bozzi lungo la carrozzeria identificati due uomini che avevano con loro la mazza da baseball ma non si esclude possano essere coinvolte anche altre persone sono in corso le indagini anche per identificare il movente del ride cambiamo ora argomento migliore struttura pubblica per quanto riguarda l'organizzazione il funzionamento del blocco operatorio e poi il futuro con nuove sale operatorie dei sargeri per aumentare anche il numero degli interventi tutto questo riguarda la chirurgia all'ospedale riuniti di Ancona un premio speciale per l'organizzazione e l'attività chirurgica degli ospedali riuniti di Ancona lo scorso 21 e 22 settembre si è svolto a Terni un seminario di studio del forum del percorso chirurgico durante il quale si sono confrontate su base volontaria 40 aziende con le loro strutture nel confronto tra gli ospedali BIG ovvero con oltre 900 posti letto gli ospedali riuniti si sono classificati come primo ospedale pubblico dopo il Gemelli di Roma oltre al premio speciale l'azienda ha conquistato anche un attestato di performance di eccellenza in 6 discipline chirurgiche e cioè in ortopedia traumatologia chirurgia senologia chirurgia della mano otorino laringoiatra chirurgia plastica e chirurgia maxillo facciale il blocco operatorio qui a Torretta è forte di 19 sale operatorie di cui una utilizzata per la chirurgia ambulatoriale delle 18 sale operatorie 15 sono dedicate agli interventi programmati che nel 2017 sono stati oltre 19.000 e 3 invece sono destinati all'urgenza che sono state oltre 4.500 l'attività è H24 nel senso che dove vengono fatti interventi programmati l'attività dalle 8 alle 20 ed è prevista dal lunedì anche al sabato noi operiamo anche il salto pomeriggio in programmato salto mattina e salto pomeriggio più abbiamo le due sale che sono equipaggiate diciamo noi che hanno personale anche per la notte per i giorni festivi che lavorano H24 i numeri degli interventi sono in crescita l'azienda è passata da 22.500 operazioni nel 2015 a 24.000 nel 2017 con 130 interventi chirurgici a settimana nei prossimi mesi al sesto piano dell'ospedale di Torrette è prevista l'attivazione della day surgery multidisciplinare le ulteriori tre stanze per una chirurgia a ciclo breve permetteranno di arrivare a circa 32.000 interventi quella che presuppone la possibilità di una dimissione in giornata stessa oppure di una dimissione al massimo il giorno dopo è chiaro che togliendo dal blocco operatorio maggiore tutti questi interventi e mettendolo in un blocco operatorio dedicato qual è quello che stiamo in questo momento implementando significa anche aumentare la capacità del blocco operatorio maggiore di dare risposta agli interventi più complessi dalla sanità passiamo invece al lavoro con l'incontro al Mise sulla questione Whirlpool ci sono spiragli da parte del governo anche sul prolungamento degli ammortizzatori pur con gli investimenti pur con il raddoppio alla produzione ci sono ancora i superi quindi non è un piano industriale che adesso possiamo dirci è già maturo e pronto per stringerci la mano governo aziende sindacate e dirci va bene fino al 2020 diamo gli ammortizzatori sociali perché noi vogliamo sostenere questo piano industriale ma a due condizioni se è un piano industriale migliorato con il dialogo con i rappresentanti dei lavoratori e se si riporta in Italia un po' di produzione che stanno a vedere le parole del ministro del lavoro Luigi Di Maio sintetizzano l'esito dell'incontro al Mise per l'avvertenza Whirlpool per discutere del piano industriale 2019-2021 e anche della possibilità di proseguire con gli ammortizzatori sociali che stanno per scadere in virtù del Jobs Act del 2015 l'obiettivo è scongiurare più di 600 isuberi in tutta Italia dagli 800 dichiarati dal piano industriale di maggio ci sarebbero state delle fuoriuscite volontarie in particolare per le marche alla finestra ci sono i 135 lavoratori di comunanza in pieno cratere sismico e 50 dello stabilimento di Melano nel Fabrianese dove da mesi un 30% della forza lavoro usufruisce della cassa per la diminuzione dei volumi a punto di lavoro proposta delle forze sindacali fa sapere Pierpaolo Pullini della FIOMCGL era quella di concentrare tutto il polo delle lavasciuga nella Scolano facendo rientrare parte della produzione dalla Polonia e andando a creare poli di specializzazione anche per Melano il messaggio delle forze sindacali è chiaro no agli esuberi e no alle chiusure degli stabilimenti il piano industriale prevede una crescita che oggi si basa sull'innovazione e come regione abbiamo gli strumenti per favorire questo indirizzo fa sapere il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli presenta l'incontro di Roma con le assessore al lavoro Loretta Bravi e alle attività produttive Manuela Bora e una delegazione di sindaci dell'Ascolano e del Fabrianese il prossimo incontro è previsto per metà ottobre Indagine del Centro Studi CNA sulla povertà delle famiglie marchigiane ebbene quasi il 9% vive molto vicina a questa soglia anche per fare la spesa alimentare si guarda con attenzione al centesimo così come si spegne sempre più spesso la caldaia restando al freddo succede quando si vive con meno di 651 euro al mese la soglia di reddito sotto la quale si viene considerati poveri una condizione che nelle Marche interessa quasi 57.000 famiglie 134.794 le persone che sbarcano il lunare in queste condizioni di difficoltà economica cercando di far quadrare i conti se in due si può contare su poco più di 1000 euro 1400 euro per una famiglia di tre persone e poco più di 1700 euro in quattro secondo l'analisi della CNA Marche il disagio sociale che coinvolge l'8,8% dei nuclei familiari marchigiani il leggero calo rispetto all'8,9% del 2016 si inserisce in un quadro in cui in Italia i poveri alla fine del 2017 erano il 12,3% della popolazione in crescita rispetto al 10,6% dell'anno precedente la statistica sulla povertà dell'Istat è la fotografia di un paese diviso in due con la Valle d'Aosta che ha il minor numero di famiglie in povertà seguita dal Trentino Alto Adige dalla Lombardia e da tutte le regioni del centro nord sotto il 10% unica eccessione è l'Umbria con il 12,6% di famiglie povere mentre le marche si fermano appunto all'8,8% sono dunque più di 134.000 i marchigiani che sperano nel reddito di cittadinanza per migliorare la loro condizione economica ed arrivare a fine mese si tratta afferma il direttore del centro studi CNA Marche Giovanni Dini di persone che non riescono a risparmiare né tantomeno a sostenere spese impreviste spesso sono costrette a non saldare o a posticipare pagamenti di mutui affitti e bollette risparmiano sulle spese di riscaldamento e rinunciano agli interventi di manutenzione della propria abitazione risparmiano anche sulle spese mediche e su quelle alimentari E ora cambiamo argomento torniamo a parlare dell'ipotesi delle chiusure domenicali di centri commerciali e attività commerciali in genere questa volta per ascoltare la voce dei sindacati ed in particolare della CISL Marche sul tema Chiusure domenicali sicuramente sì la nostra posizione è una medesima ormai da diversi anni da un momento in cui è uscita la legge che ha dato in atalia la possibilità delle aperture durante tutto l'anno Il punto della CISL e dei sindacati di categoria riguardo il tema delle chiusure domenicali dei centri commerciali Il dibattito politico attuale ruota attorno all'articolo 31 del cosiddetto decreto Salva Italia o decreto Monti che ha annullato la concertazione che negli anni aveva visto le regioni predisporre ordinamenti ad hoc sui territori di competenza La nostra è stata chiara di posizione anche perché il provvedimento non ha favorito né il nostro turismo perché i centri più grandi che aprono e approfittano delle aperture domenicali sono ubicati nelle periferie per cui i centri storici delle nostre belle città ma anche le zone balneari non godono dell'afflusso legato all'acquisto della merce Nello stesso tempo non abbiamo avuto un vantaggio dagli anni in cui è entrato in vigore il cosiddetto decreto Salva Italia sul piano dell'occupazione L'occupazione è rimasta più o meno la medesima siamo stati pesantemente investiti da dieci anni di crisi che hanno portato a ridurre proprio quei contratti a termine che erano anche assunti per il lavoro domenicale Ecco invece la proposta della CISL La nostra proposta è quella sicuramente di contenere il numero e quindi le cinque proposte di legge che sono oggi in Parlamento vanno in quella direzione Quello che aggiungiamo è che chi rappresenta i lavoratori così come sicuramente chi rappresenta i dettori di lavoro debbano poter essere ascoltati e debbano poter partecipare nel momento della concertazione Tra l'altro sottolineiamo che la materia degli orari commerciali è una materia che deve essere discusa sicuramente nella regione non a livello nazionale l'Italia è un paese che ha tante specificità e tante tipicità quindi l'idea della Costituzione di attribuire questa materia nelle regioni ha proprio questo senso Noi ci fermiamo subito dopo di noi però Marche Flash e poi a seguire anche le notizie di Sport Arrivederci Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori